Verifone è una multinazionale che opera nel mondo dei sistemi di pagamento, con sede in California, è quotata al New York Stock Exchange e è presente in 150 paesi nel mondo. Nel mercato di repayment è presente e punta in maniera molto forte e per questo anche in Italia si è strutturata tramite una software house che è dedicata al mercato di repayment. I prodotti di Verifone sono nati per supportare il mondo delle repayment e hanno all'interno per esempio l'e-beacon che è il bluetooth della Apple e permette svariate applicazioni e apre un mondo diverso rispetto a quello classico dei POS. Già oggi forniamo soluzioni in Italia di dematerializzazione dei buoni pasto per esempio, ma anche di ricariche carburante, gift card, couponing, ogni tipo di pagamento legato al mondo delle repayment.